Musica L'amministrazione comunale di Porto Torres, in particolare il sindaco Sean Wheeler e l'assessore all'ambiente Cristina Biancu, hanno interagito e comunicano periodicamente, in modo costante, con i due commissari della Commissione Tecnica di Controllo di Fiume Santo. La precisazione arriva in seguito agli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi. Gli incontri tra i due commissari del comune di Porto Torres nella Commissione Tecnica di Controllo avvengono spesso e sono cadenzati in base alle riunioni della Commissione stessa, specifica il sindaco Sean Wheeler, sia Michele Basso, sia Marta Cano, scelti attraverso un bando pubblico, relazionano verbalmente con documenti e materiale sia al sottoscritto sia all'assessore all'ambiente Cristina Biancu. L'interesse più che lecito del comitato Tuteliamo il Golfo della Sinara non può intaccare l'attenzione che l'amministrazione di Porto Torres apposto alle tematiche ambientali, incluse quelle relative alla centrale di Fiume Santo, continua il sindaco. Ci siamo infatti sempre spesi e continueremo a farlo. Abbiamo anche scelto due ingegneri come commissari con la convinzione che due tecnici altamente specializzati possano, come effettivamente avviene, approfondire le tematiche con più professionalità e consapevolezza, conclude il sindaco. La scienza fuori e dentro l'Ateneo, in piazza, nei bar e nei laboratori. Torna la nota europea dei ricercatori. L'Università di Sassari aderisce per il quinto anno all'iniziativa con il tema BIS, Be a Citizen Scientist, pensato per incoraggiare la partecipazione dei cittadini all'evoluzione della ricerca scientifica. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione. L'idea è che tutti insieme, i cittadini e i scienziati, fanno scienza. Tra l'altro, quest'anno, ancora di più cercheremo di confonderci nella città e di interagire con la città. Sono previsti incontri informali nei bar. Il bar è un luogo importantissimo di ritrovo nella cultura sassarese, fra l'altro. Quindi si può coniugare divertimento e scienza, evidentemente, e stare insieme. Si parte giovedì 26 settembre con gli aperitivi e i caffè scienza che portano i temi della ricerca dentro i bari, i caffè e i bistrò della città. Il primo appuntamento è alle 15.30 nella libreria di Largo Cavallotti con l'archeometria, l'innovazione scientifica al servizio dell'archeologia. Alle 19 si prosegue nel social club e bistropi a Cerenero con la verità dell'oro della Sardegna, il Neolitico. E alle 20, nello spazio 105, protagonista la musica con l'evento fare ricerca sulla musica e con la musica. Caffè e aperitivi scientifici andranno avanti anche il giorno dopo. Si prosegue il 27 settembre dalle 9 alle 13 nel Palazzo Storico dell'Ateneo dove nel cortile interno parte Università Aperta con 700 allievi nelle scuole primarie e secondarie provenienti da 12 scuole di Sassari, Alghero e Dorgali. Mentre nell'ampio ingresso del Palazzo Centrale con la maratona divulgativa Scienza Arena contrassegnata da Agili Talk e di argomento scientifico si va avanti fino alle 22.00. Nel corso del pomeriggio verranno aperti gli stand dedicati a bambini e famiglie. La tecnologia e la scienza unite per fermare l'Alzheimer. Il gruppo Corian, leader europeo nel trattamento dei pazienti con demenza gira l'Italia dal 13 settembre per informare e sensibilizzare su una malattia che soltanto nel nostro Paese colpisce 1.200.000 persone e si stima triplicherà le sue vittime nei prossimi 30 anni. Oggi in Piazza d'Italia dalle 10 alle 18 gli esperti di cura e assistenza interagiranno con tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'origine del morbo e soprattutto alle misure con cui limitarne le conseguenze per chi ne ha affetto e per i suoi familiari. Attraverso un visore multimediale in 3D i curiosi faranno un'esperienza immersiva della patologia guidati da una voce femminile che si presenterà come Io sono l'Alzheimer. Il percorso, emozionale e impressionante da vivere nell'arco di 10 minuti, guida l'utente dentro una casa attrezzata per venire incontro ai bisogni della persona a cui man mano la malattia toglie tutto tranne la sfera affettiva. Una realtà parallela che permetterà di provare sulla propria pelle l'esperienza della sindrome e capire i passi da intraprendere per prevenire e curare. Due punti di ricovero e cura in Sardegna, ad Olbia e a Sassari. Nelle strutture vengono offerti gli stimoli riabilitativi adeguati alle compromesse compacità dei pazienti con specifici progetti di terapia non farmacologica. Fermata Alzheimer ha avuto il patrocino del Comune di Sassari e la collaborazione di ATS Sardegna, AIMA Onlus Sassari, Associazione Italiana Malattie Alzheimer e AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Sassari. Venerdì 27 settembre, al Teatro Verdi di Sassari, l'Arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba ha convocato tutti i fedeli della diocesi, presbiteri, consacrati e laici, per un ulteriore incontro di preghiera e riflessione verso un rinnovamento missionario delle realtà pastorali per l'Assemblea Ecclesiale Diocesana. L'Assemblea ha una connotazione, come abbiamo detto, ecclesiale, quindi è la chiesa particolare del territorio che si incontra, si raduna per riflettere, pregare. Due sono i momenti, quello presso il Teatro Verdi e il successivo in Cattedrale, dove ci sarà anche il mandato per gli operatori pastorali e la rinnovazione delle promesse sacerdotali da parte dei presbiteri che assumono nuovi incarichi pastorali in diocesi. Già il precedente lavoro è stato un lavoro molto concreto, molto pratico, quindi l'Assemblea non fa altro che sviluppare e proseguire quella esperienza dell'incontrarsi come chiesa locale per vivere insieme. Tema dell'Assemblea, educare il cambiamento nei cambiamenti per una chiesa missionaria. Durante la prima parte dell'Assemblea interverrà Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, e Mario Opes, direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La seconda parte della serata si svolgerà nella Cattedrale di San Nicola dalle 19.15 per la concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo. Il festival letterario che si è svolto a Tissi lo scorso fine settimana ha avuto un appendice storico-naturalistica nella visita guidata dei partecipanti ad un importante monumento preistorico, lo stesso che dà il nome al progetto, Sas Puntas, è un ipogeo neolitico fra i più importanti del territorio e unico nel suo genere, distante pochi chilometri dal centro del paese. Le guide del Comitato per il Festival letterario hanno spiegato le caratteristiche dell'ipogeo scavato nella roccia calcarea con l'ingresso a prospetto. All'interno diverse celle sepolcrali sono state visitate dal pubblico più interessato. Anche questa visita ha sancito il successo del festival, nel quale sono stati presentati numerosi autori sardi pubblicati da case editrici locali. L'evento inoltre è stato integrato da dibattiti, incontri, intermezzi musicali, installazioni e mostre, nell'ottica di una sinergia tra diverse forme artistiche. Dall'emiciclo Garibaldi a Piazza Santa Caterina, da Largo Brigatta Sassari a Piazza Zuni, dai giallini pubblici a Piazza Duomo, a Proda Sassari, dopo l'anteprima Cloaghe Bortigia, da San Girovagando Festival internazionale di arte in strada, in programma dal 26 al 29 settembre. Giunta la 22esima edizione, la manifestazione ideata e diretta da Teatre Anvol e dall'associazione Girovagando, quest'anno sceglie il tema Convivenze, Insurrezioni, Resurrezioni. Ponendo l'accento sulla necessità di costruire una cittadinanza attiva che sia capace di condividere le problematiche della città attraverso l'arte, ma anche di attuare un'insurrezione poetica contro la realtà. Patrocinato dal Comune di Sassari, Girovagando è realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, nell'ambito del progetto triennale Casa delle Culture Diffusa. Spettacoli urbane, mostre, itineranti, laboratori scandiscono le quattro giornate del festival, accompagnate dall'allestimento nei negozi del centro storico del percorso fotografico Habitat Immaginario 30 anni in volo che festeggia il trentennale di Teatro On Vol raccontando nella storia dagli esordi ad oggi. Si parte giovedì 26 settembre alle 18 all'emiciclo Garibaldi con un omaggio sonoro ai negozianti che ospitano l'esposizione. Numerosi i momenti di spettacolo, divertimento e di ritenimento fino a domenica. Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio Teatrale Racconti Erranti Factory. La fabbrica di idee è sempre operativa all'interno del progetto Storytelling Teatrale Racconti Erranti organizzato dall'associazione Tusitala con la direzione artistica di Monica De Murtas. Saranno gli spazi dello storico Teatro Verde di Sassi ad ospitare la fucina creativa di Tusitala mirata alla formazione di un gruppo di allievi che avranno come palestra in numerosi progetti teatrali dell'associazione. Tra questi, invito a teatro Il Verdi Racconta, Magical Mystery Tour su Mortu Mortu, il nostro Halloween Carrasciari a Corso e Seguendo Una Stella. Il Laboratorio annuale si svolgerà due volte alla settimana e ogni lezione sarà di due ore da ottobre a giugno con sede al Teatro Verdi grazie alla collaborazione con la cooperativa Teatro e Musica che gestisce lo storico teatro cittadino. A condurre il laboratorio saranno l'attore musicista e insegnante di tecniche teatrali Matteo Gazzolo e Maurizio Gior, dottore, regista e autore. Al lavoro di Gazzolo e Giordo si affiancherà nel corso dell'anno quello di altri numerosi attori musicisti, danzatori, insegnanti di tecniche teatrali registi, costumisti, scenografi, autori di testi. Il programma completo e il calendario delle lezioni saranno illustrati in un incontro workshop che si terrà nella Sala Concerti del Teatro Verdi giovedì 26 settembre alle 18. Il Laboratorio Racconti Erranti è a numero chiuso l'incontro è invece aperto a tutti. Per informazioni chiamare il 338-7763-455 Grazie a tutti! La Supercoppa italiana di Nuova Sassari. Il trofeo vinto dalla Dinamo domenica nella rivincita contro la Reier Venezia è approdato ieri in città per la gioia delle migliaia di aficionados della squadra bianco-blu. Una prima ostensione lunedì mattina con l'arrivo dei giganti sassaresi a Fertilia, accolti subito dalla folla dei tifosi e accorsi per l'occasione. A mostrare il bottino della battaglia barese il capitano Jack De Vecchi, seguito a ruota dai big della squadra e naturalmente dall'ex mosca atomica Gianmarco Pozzicco. Il viaggio del primo trofeo stagionale del basket italiano ha poi avuto una seconda e ben più affollata tappa pubblica a Clubhouse in serata. Passarella del team Dinamo, capitanato dal leader Manco Spissu, eletto migliore italiano della Supercoppa 2019. Solo delle fragili transegne hanno diviso il goto del banco dalle centinaia di supporter armati di cellulare per immortalare l'evento. I giocatori si danno il 5 e sorridono mostrando quella familiarità comune a cui tende Pozzicco, il quale più volte ha ribadito come l'intesa collettiva sarà l'arma in più per far crescere la Dinamo. Le prime parole del coach nel discorso pre-partita sono state chiare, we do this together, lo facciamo insieme. Al termine dello show, bagno di folla per i giocatori che hanno firmato autografie e scambiato selfie, confermando il sentimento quasi fraterno che accomuna la città e il suo roster. A breve partenza della regular season con una Dinamo che ha ancora ampi margini di miglioramento. Per Omar Maglione i successi non finiscono mai. Domenica scorsa in Sicilia, nel corso della 65esima Coppa Nissena, il campione sassarese si è laureato tricolore per la nona volta. La vittoria gli arride sempre nel campionato italiano a velocità montagna e ancora come alfiere della scuderia CST Sport. Alla guida dello Sella Honda, gommata a Evon, è arrivato il terzo trionfo nel gruppo dei prototipi E2SC, grazie al secondo posto conquistato a Caltanissetta nella sua categoria e il gradino più alto del podio nelle vetture da 2.000 di cilindrata. I 5.450 metri del complesso circuito Nisseno hanno impegnato il pluricampione sardo fino al limite delle possibilità offerte dalla sua vettura, sbaragliando una concorrenza che poteva contare su maggiori cavalli. Una riuscita spettacolare che assume ancora più valore alla luce di un esordio stagionale vissuto tra alti e bassi, con un nuovo prototipo le cui potenzialità erano tutte da testare. La svolta di maggio con la vittoria Nevegal e il primo posto di Rieti a luglio e sul tracciato reso in fido dalla pioggia hanno permesso a Magliona di risalire posizioni in classifica fino al successo di domenica. Il driver sardo nel post Coppa Nissena ha ringraziato il team che l'ha supportato durante la competizione. Con Tenacia abbiamo dimostrato insieme di saper scrivere qualcosa di significativo, partendo da un foglio bianco e arrivando ai vertici. Non avevamo una base già colladata ma ci abbiamo creduto e la crescita è stata evidente seppur sofferta. Non abbiamo mai mollato, ha sottolineato Omar Magliona.